Musica Ovviamente il draghetto e ragazzi, segno della croce, grappa in mano, vado, sbrocco, oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio ragazzi non ci credo, oh mio dio lo stregone di ghiaccio, Non ci posso credere, ragazzi sono scioccato completamente, ok sicuramente oro ci fa comodo, dai dai dai, 23 fornaci, magari potrei fare un mazzo con le fornaci, 208 spiriti di fuoco, tanta roba, oddio ragazzi, ragazzi la leggendaria, la leggendaria, non ci sto credendo, non ci credo ragazzi, il secondo baule è nel baule gigante, Prossima carta in quest... ragazzi, oddio, oddio raga, oddio raga, 17 fulmini, ragazzi forse ci siamo, forse riesco a scuola una leggendaria, ragazzi vi giuro un video, si trova una leggendaria adesso, un attimo solo ragazzi, un attimo, capite la mia situazione, un attimo solo, 17 fulmini ragazzi, 17 bocce di blumele, e abbiamo l'ultima carta ragazzi, qui dentro c'è ancora una carta, solo il dio della barilla sa cosa c'è lì dentro, c'è una carta con gli spigoli ragazzi, una famosa carta con gli spigoli, una carta comune che mi farebbe tirare giù il vangelo, compresi i canti dell'inferno di Dante che non c'entrano niente ma ci fanno andare di brutto, se facciamo la doppietta io salto in aria, raga, faccio io, raga, vi giuro che salto in aria, e l'ultima carta in questione di questo baule super magico, ladies and ombre, sarà... Ragazzi ce la facciamo, e cos'è? Eccor, morgo addio, la principessa, raga, non si credo. Arcieri, ok, non li uso, madonna quanti sono? Moschettiere, ok, sì, 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 quello che mi serviva, quello che fottutamente mi serviva è il congelamento, finalmente ce l'ho, finalmente. prossima... due veneno, due veneno, due veneno, attenzione ragazzi, non si credo no, 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 no... non ci voglio credere grazie raga siete fantastici facci sognare facci sognare attenzio madonna attenzio principessa di nuovo a livello 2 dobbiamo spaccarlo pure qua il tasto di mi piace altre epiche 5 archi x altre epiche 6 mongolfiere penso siano finite le epiche da trovare 94 estrattori di elisir ragazzi ci siano tolti le epiche 94 estrattori ci siano tolti le rare ti prego ti prego sì sì mastino lavico mastino lavico l'ho chiamata l'ho chiamata ragazzi non ci credo ce l'abbiamo fatta ve lo sentivo gira la fortuna finalmente non il goblin il goblin con la verruca in testa ti do madonna mi guarda con quei suoi occhi da pesce qua golem si 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 anna si vieni qua l'ho trovato il bravo infernale sta registrando si 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 oh mio dio azzo l'ultima carta epica ci sarà ragazzi l'ultima mio dio raga mio dio no voglio 25.000 like per questo specchettamento mamma mia mamma mia lo stacone di ghiaccio carta leggendaria mamma mia raga che puro 3.600 di oro goblin lanceri barbari spirito del ghiaccio per 234 ragazzi no nulla ragazzi si si il minatore andiamo ragazzi buono 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 il minatore non ce l'avevo non ci credo ragazzi guardate qua la leggendaria nel baule di legno nel baule omaggio dai dai fa che sia un'epica è un'epica 18 con golfiere e l'ultima è si oddio 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 subito subito così è leggendaria no 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 raga sono troppo sculato sono troppo sculato il regolo non ci interessa ti prego un'epica ok e l'ultima carta è oddio mio oddio mio no vabbè no vabbè no vabbè raga ho sbancato 100.000 mi piace voglio non ci sto a credere tre leggendari di seguito ci vorrebbe proprio un'altra epica adesso eh no forse questa ok un'epica ragazzi ultima carta un bacetto alla mano eeeh sarà sarà no non è vero non è vero vabbè raga abbiamo baccato flash royale abbiamo baccato flash royale di nuovo una leggendaria ho vinto tutto ho vinto tutto raga non sono cazzate vi ripeto non sono cazzate grazie a tutti